Pace, pace fratello, Dio vi benedica a tutti quanti, è una gioia trovarci insieme ascoltando i fratelli che hanno portato il pensiero del Signore, alle persone che hanno un bisogno particolare, è una grande gioia nel mio cuore di poter trasmettere questo piccolo pensiero che Dio ha messo nel mio cuore, che possa essere un pensiero condiviso e possa toccare qualche cuore affinché Dio possa cambiare ogni situazione, sappiamo che stiamo servendo un Dio, un Dio grande, un Dio potente, un Dio che è al di sopra dei nostri pensieri, non possiamo comprendere la profondità delle cose di Dio ma lo Spirito Santo ci rileva ancora la sua volontà per la potenza dello Spirito Santo, per la potenza dell'Evangelo, per la potenza divina e possiamo comprendere tutto quello che il Signore ci vuole rivelare, ci sono delle cose che il Signore non ci vuole rivelare, ci sono delle cose che magari non sono a nostra portata e quindi il Signore nella semplicità ci vuole rivelare attraverso la sua parola quello che il Signore vuole dirci in questa sera ancora, affinché Dio possa produrre in voi un sentimento nuovo e possa Dio toccare i vostri cuori e raggiungere le vostre anime. Voglio salutare tutti i fratelli e le sorelle, coloro che sono in diretta con noi, Dio benedica tutti i servitori del Signore, il fratello Cataldo, la sua equip nel programma di Parole di Vita e tutti i fratelli che ci seguono e quelli che vedranno ancora le dirette, che Dio benedica tutti quanti. Sappiamo che stiamo vivendo negli ultimi tempi, tempi difficili, tempi di angoscia di una parte, di gioia perché c'è il ritorno di Gesù, parlano di guerre, di rumori di guerre, parlano di tutto e noi sappiamo che il caos c'è, il peccato giace nel mondo e chi fa uso del peccato, la Bibbia dice che il peccato, il salario del peccato è la morte e quindi noi vogliamo intervenire con la vita di Gesù Cristo perché dove il Signore arriva a portare questa vita è perché viene a bussare ai cuori delle persone, delle porte, dei cuori delle persone per poter parlare, per poter soddisfare, per poter donare vita dove c'è la morte. Però dobbiamo fare una cosa, dobbiamo essere consapevoli che nessuna persona ha la capacità di perdonare i suoi peccati. Ci vuole un salvatore, ci vuole un redentore, qualcuno che ci aiuta a comprendere cos'è la salvezza delle nostre anime e noi che abbiamo compreso cos'è la salvezza, fratelli e sorelle, dobbiamo vantarci. Chi si vanti, la Bibbia dice nella sua parola che chi si deve vantare? Si deve vantare per il nome di Gesù, per il Signore. Il nostro vanto è Gesù. Noi non abbiamo nessun potere, il potere è nelle mani di Dio. Noi abbiamo solo un piccolo potere che si chiama fede. Qualsiasi cosa chiederemo nel nome del Signore, noi lo otterremo, sempre se è la sua volontà. Se non è la sua volontà il Signore non ce lo donerà. Io voglio ricevere qualcosa per la volontà di Dio e se sono in diretta con voi credo che il Signore muove le persone, i sentimenti, ci mettiamo insieme per poter pregare, per poter parlare del Signore. Il Signore dice andate, predicate, fate, esortate, riempite, chiamate, invitate, fate qualcosa affinché le persone possano comprendere che io sono Gesù, colui che sono morto ma sono risorto e sono alla destra del Padre e intercedo per coloro che hanno bisogno di me. Entriamo in merito alla parola del Signore nel libro del profeta Isaia 42, verso 3, dove parla di una cosa semplice, degli elementi. Dice così Isaia 42, verso 3, non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. verso 16, farò camminare i ciechi per una via che ignorano, guiderò per i sentieri che non conoscono e renderò pianeggianti luoghi imperversi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Amen? Farò camminare i ciechi per una via che ignorano e guiderò per i sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce. Renderò pianeggianti luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Cari fratelli, cari sorelle, questa profezia dove si è manifestata quando Gesù è venuto in mezzo di noi ha portato dove le persone non avevano più speranza. Il tema di questa sera è non perdere la speranza. Il tema di questa sera, vorrei che possa essere inciso nel tuo cuore di non perdere la speranza. La speranza è un qualcosa di straordinario perché possiamo veramente di avere un qualcosa di importante. Perché è importante la speranza? Perché la speranza è ciò che ci riporta a trovare un senso al vivere, a ciò che ci permette di rialzarci più e più volte anche quando pare che abbiamo perduto tutta ogni cosa, che va cercata, scavata, nutrita perché cresca dentro di noi questa speranza certa che il Signore non ci abbandonerà mai. Quindi qui noi troviamo due elementi. La canna rotta era una canna, sapete quello che troviamo vicino alle acque, e il lucignolo fumante è lo stoppino della lampada, della lanterna, che sta per spegnersi. Si sta spegnendo. Quante lanterne si stanno spegnendo? C'è solo lo stoppino? Basta uno spostamento d'aria e si spegne. Capite, cari fratelli, cari sorelle? Cioè c'è un momento particolare in qualche vita, in qualche fratello, in qualche sorella, dove non ha più quel sentimento di poter dire, ma Signore vedi cosa accade nel mondo, vedi quanti problemi ho, vedi quante cose, le malattie, le sofferenze, le delusioni, quello che sentiamo a destra, a sinistra, le notizie. Ma in tutto questo caos, in tutte queste notizie c'è una buona notizia per te. Gesù è morto ed è risorto, caro fratello e cara sorella, per portarti nella vita. Non dimenticarti mai che Gesù è morto per i nostri peccati, ma ed è risorto per donare la vita, non soltanto per donare la vita, ma anche per mantenere la vita, perché il Signore vuole che possiamo rimanere in vita spiritualmente e non vuole mai il male di nessuno. Sapete, fraintendono le cose le persone, indossano al Signore di tutto il male che sta succedendo nel mondo. Il Signore, Dio, è buono, Dio è amore, Dio è pace, Dio è gioia, Dio è speranza e la speranza di ancora Marte e Maria quando Lazzaro stava per morire e stava per svanire, vero? Era l'ultimo. Erano delle canne spezzate, frantumate, erano lì dei piccoli lucignoli che stava per l'ultimo minuto per vivere, questo Lazzaro stava per morire e aveva il desiderio di vedere Gesù, ma era morto, si è addormentato e dopo un po' di tempo, dopo quattro giorni Gesù va, lo risveglia, vi ricordate cari fratelli, cari sorelle, lo risveglia e per portare questa speranza dove Gesù va a dire se tu credi, non ti ho detto che se tu credi tu vedrai la gloria di Dio e noi vogliamo vedere la gloria di Dio nelle nostre famiglie, nelle nostre case, ma soprattutto nella nostra vita spirituale, sta mancando dell'olio, ecco perché si spendono i lucignoli fumanti, gli rimane soltanto il fumo, si sta spegnendo ma il Signore dice che non ti lascia spegnere, ti vuole riaccendere, vuole riaccendere ciò che si sta spegnendo dentro di te. Nella lettera ai tessalonicesi, andiamo a leggere insieme, 5 verso 19 dice così, qualcosa che possa portare qualcosa nel tuo cuore, la speranza non si spegne mai, dice ancora in tessalonicesi, dice non spegnete lo spirito, non spegnete lo spirito, non far sì che lo spirito si possa spegnere dentro di te. Come si fa a spegnere lo spirito dentro di noi con lo Spirito Santo? Come facciamo a far spegnere questo spirito meraviglioso che Dio ha messo in noi del suo spirito? Non si può togliere, ma si può soffocare, lo si può ancora rattristare, lo si può spegnere e quindi noi vogliamo ottenere acceso quello spirito, quella luce che Dio ha messo dentro di noi. Come facciamo? Con la preghiera, fratelli e sorelle, con la fede di poter credere nel nostro Dio, nelle sue promesse, farsi nostre le sue promesse. Quindi non si spegnerà, non frantumerà la canna ruota. Il Signore non è venuto per disprezzarti, per calpestarti, per infliggerti delle punizioni, dei castighi. No, il Signore dice che colui che ha preso le nostre malattie, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, lo dice in Esaia, 53 cari fratelli e sorelle. Non dobbiamo mai dimenticare l'amore di Dio che è stato sparso nei nostri cuori, possiamo vivere a meno. E beh, il Signore dice che non griderà, dice, egli non griderà, non alzerà la voce, non lo farà udire nelle strade, perché Dio viene a lavorare direttamente una voce nel tuo cuore, direttamente ti dice figlio mio, figlia mia, io sono con te, ti dice il Signore, per liberarti dal tuo problema, per poter darti soddisfazione della vita. Io ho dato la vita affinché e la dono affinché abbiano vita, dice ancora nella sua parola al Signore, in abbondanza, affinché ne possiamo dare di più, possiamo avere più vita di Dio noi, se vogliamo, ma dobbiamo prendere questa vita, dobbiamo crescere alla statura perfetta di Cristo, ne parla Paolo ancora nelle lettere, ne parlano i profeti che noi dobbiamo avere quello spirito dove ancora Ezechiele parla di quello spirito che entrò, lo spirito che ancora aveva fatto vedere cosa vedeva, un campo pieno di ossa dove si misero insieme, dove si componevano e dove si rialzarono le ossa secche, ma ripresero vita quando lo spirito santo entrò con potenza. Abbiamo bisogno dello spirito, abbiamo bisogno dell'unzione, abbiamo bisogno di far camminare i ciechi per una via che ignorano, una via che si chiama la via del Signore che è stata tracciata per noi, per mezzo di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Guiderò per sentieri che non conoscono, ci guiderà fratelli, cambierò davanti a loro le tenebre in luce, gloria a Dio. Dio vuole cambiare quelle cose tenebrose che il nemico ci attacca nella nostra mente, nel nostro cuore. Non dobbiamo mai dimenticarci che il nemico attaccherà i credenti, sta attaccando e ha lanciato delle sfide, anche noi lo vediamo attraverso il grande Golia che sfidò le schieri di Israele, dove viene animato dallo spirito del nemico. Ma ecco che un altro viene animato dallo spirito di Dio, si chiama Davide, che prende le cinque pietre, va ad affrontare il grande Golia e Dio gli dà la vittoria. Ma non era per la capacità, non era per la capacità. L'esito della battaglia non è mai per la capacità della moltitudine, è per il nome potente di Gesù, ti darà nelle mie mani, dice ancora Davide. E non era ancora un re, era un giovane, un giovane che vinse. Voglio dire a tutti i giovani che stanno combattendo per l'opera di Dio, preghiamo fratelli, dobbiamo sventolare la bandiera, tutti sventolano le loro bandiere. Noi abbiamo una bandiera che dobbiamo izzare, che si chiama Gesù Cristo, il figlio di Dio. Il Signore è la mia bandiera, in Esodo ne parla anche quanto per la vittoria di Amalek, con Giosuè che combatterono e Mosè teneva le mani alzate, dobbiamo tenere le mani alzate come simbolo di invocazione, fratelli e sorelle. Invochiamo il nostro Dio, abbiamo la vittoria, perché la vittoria è nostra nel nome potente di Gesù. Alleluia. In Matteo c'è un testo che è collegato a ciò che viene annunciato dal profeta Isaia, viene annunciato dal Matteo 12, verso 21, dice così, ascoltate, è importante questo, e nel nome di lui e nel nome di Gesù le genti spereranno. Le genti spereranno. Tanti non hanno più speranza, non sanno più dove andare, non sanno che tutte le vie portano a Roma, è vero, c'è un detto, ma una via sola porta la salvezza, una via sola porta la fede, una via sola porta all'essere esauditi da Dio. E si chiama Gesù Cristo la porta, che se tu vai a bussare la porta del Signore Gesù Cristo e dice io sono la porta, ma tu devi bussare la porta, devi bussare la porta del Regno dei Cieli, devi bussare. Gesù aveva detto anche che il Regno dei Cieli è in mezzo di noi, fratelli e sorelle, ed è importante di non spegnere lo spirito, non facciamo spegnere lo spirito in noi, perché il Signore ci ha dato del suo spirito, anzi che noi possiamo proclamare l'anno accettevole, a dare quella parola, dice farò camminare i ciechi per una via che ignorano, ignoriamo delle volte, ma c'è questa via, non ignoriamo la via che è stata tracciata per noi, che ci porta nel Regno dei Cieli direttamente quando il Signore ritornerà. E chi si è addormentato in Cristo saranno i primi, quando sentiranno la tromba, quando i morti in Cristo risusciteranno e noi viventi che saremo rimasti incontreremo il Signore con loro, non precederemo quelli che si sono addormentati, insieme incontreremo al Signore, abbiamo un appuntamento nell'aria, non abbiamo un appuntamento con quello che sta accadendo nel mondo, il tuo appuntamento è con Gesù, abbiamo un appuntamento nell'ora che non pensiamo, Gesù presto ritornerà, non dobbiamo ignorare. Cari fratelli, cari sorelli, gli dice, li guiderò per sintieri che non conoscono, cambierò davanti a loro le tenebre in luce, renderò pianeggianti i luoghi impervi, sono queste le cose che io farò, non li abbandonerò. Dio non ci abbandona mai, scusate, Dio non ci abbandona mai. Sono delle profezie, ma sono così che vengono dette nella parola del Signore, dice, io sarò con voi, ascoltate bene, tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente, fino alla fine dei tempi, quando verrà qualsiasi tempo, tutti i tempi, Gesù sarà sempre con noi. Il Signore ci porterà su nel cielo, verrà egli stesso a poter rapirci e portarci nel cielo. Allora fratelli e sorelle, prendiamoci forza, prendiamoci animo, facciamoci forza e coraggio, preghiamo per l'opera di Dio nel mondo. Ci sono chissà quanti fratelli in Ucraina, in Russia, dappertutto in tutto il mondo. Scusate fratelli, quanti fratelli, quante sorelle, quante persone, quanti bambini, quante persone sono ammalate, quante persone stanno soffrendo. Il Signore ci sta chiamando alla preghiera, grazie a Dio per questo canale, che ci possiamo mettere in preghiera con tutti i fratelli e le sorelle. Vi chiedo con tutto il mio cuore di mettere davanti a Dio tutte queste case, queste famiglie, tutte queste persone che stanno soffrendo nel mondo, gli uomini, il potere, tutte queste cose che stanno accadendo nel mondo, il potere, il Signore in mezzo a questo caos nel mondo delle catastrofi, il Signore è venuto per non spezzare, per non frantumare, per non spegnere, affinché il Signore dice, affinché si possa manifestare la sua giustizia secondo la verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà affinché abbia stabilito la sua giustizia sulla terra. Cioè, fratelli, noi sappiamo che un giorno i popoli passeranno davanti a Dio, ma io credo che quel popolo che non passerà davanti a Dio, ma interrà direttamente dalla porta della grande salvezza, sono i Redenti, sono coloro che si chiamano la vera Chiesa, sono quelli che hanno testimoniato, che hanno sacrificato, che sono morti per l'Evangelio. Scusate se dico questa grande verità, come gli apostoli martiri della parola del Signore, dice che sono morti per la parola, sono morti, hanno dato la loro vita alla parola. Chi ama e osserva la mia parola, quindi noi vogliamo amare la parola, noi vogliamo donare tutta la nostra vita per la parola, in senso spirituale. Cari fratelli, non dobbiamo frantumare la nostra vita, ma quante vite sono spezzate, la canna rotta non è spezzata, ma il Signore dice che non la spezza, la vuole riparare, la vuole mantenere, la vuole guarire quella canna rotta, vuole mantenere quelle vite che ripongono la loro fiducia in Lui, non vuole spegnere il lucignolo fumante, non si spegnerà il lucignolo fumante, perché il Signore darà vigore, darà luce, darà dell'olio se tu lo chiedi con tutto il tuo cuore. Oggi Dio ti riaccende, ti riaccende quel sentimento di poter invocare Dio con tutto il tuo cuore e di non tralasciare le cose più importanti della tua vita. Tu stesso sei importante, tu stessa, sorella, fratello, siete importanti davanti agli occhi di Dio, a tutti i servitori, a tutti coloro che annunciano la parola di Dio. Voglio dire, fratelli, non arrendiamoci, mettiamoci tutti insieme, tutti quanti abbiamo bisogno del Signore. Ogni giorno Dio rinuova la benedizione. Il Signore dice che è con noi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Nel testo ancora di Isaia, noi troviamo, Isaia 58 verso 12, il Signore fa una cosa meravigliosa. Vuole fare una cosa per te, caro fratello e cara sorella. In Isaia 58 verso 12 dice, i tuoi ricostreranno sulle antiche rovine, tu rialzerai le fondamente gettate da molte età. Sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abile il paese. Cari fratelli, i tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine, anche se ci sono delle rovine intorno a te, nella tua vita spirituale. Dio vuole ricostruire, vuole ancora rialzare le fondamente che sono state gettate giù. Il Signore può ricostruire, può abbattere delle volte. Delle volte noi vediamo che nella sofferenza, nelle prove, nelle difficoltà, anche quando passiamo la tempesta, anche quando siamo nella massima tempesta, Gesù non ha detto, non ha detto passate l'altra riva, ha detto sempre passiamo l'altra riva. Significa che Lui è con noi, è con noi nella nostra vita, nella nostra barca, nella nostra famiglia, nella nostra mente, nel nostro cuore. Lui è sempre con noi. Si dice che il Signore è con noi e poi ci si può dire se Dio è con noi. Chi sarà contro di noi, fratelli e sorelle? Nessuna cosa, nessuna arma fabbricata potrà distruggerti, potrà farti del male. Nessuna arma delle macchinazioni di Satana che vuole distruggere l'opera, nessuno può distruggere l'opera di Dio. L'opera di Dio è stata costituita da Dio per poter vincere, per poter portare vittoria. La spada che uscirà fuori dalla bocca, dice, di quell'uomo. Una spada a doppio taglio, una spada di autorità, una spada che vince, che trionfa, una spada che dà vittoria a tutti coloro che credono, una spada a doppio taglio che divide, una spada che divide dallo spirito maligno, dallo spirito ancora santo di Dio per mantenere noi con lo spirito ben saldo dentro di noi affinché possiamo portare una preghiera davanti a Dio. E sapete, tutte le battaglie si vincono in preghiera, fratelli e sorelle. Tutte le nostre battaglie, anche Neemia, tenevano le armi di una parte, con una mano lavoravano e con un'altra tenevano la spada e la lancia. Fratelli, non dobbiamo, non dobbiamo arrenderci. La speranza non è mai morta, dicono, perché è l'ultima che rimane accesa. Io mi ricordo di una donna che era malata da 12 anni, ne parla nell'Evangelo, uno degli Evangeli, dice che questa donna era malata da 12 anni, aveva speso tutto, non aveva più niente, non le restava che morire perché aveva una malattia che poi la portava alla morte. Aveva sentito parlare di Gesù in mezzo alla folla, andò da Gesù e sicuramente non era facile andare da Gesù perché era difficile avvicinarsi a Gesù. Ma quella donna non aveva visto niente, aveva visto il suo bisogno. Dice, se riuscirò a toccare il lembo della veste, io sarò guarita. Ecco la speranza, ecco la speranza certa, che quando tu tocchi il lembo della veste e ottieni la guarigione, la liberazione, Gesù si fermò in mezzo alla folla e dice, chi mi ha toccato le vesti? Chi mi ha toccato le vesti? Ma signore c'è tanta gente che ti stringe, qualsiasi? No, dice, io ho sentito una potenza uscire da me. Una virtù, dice il testo originale, una virtù, una virtù che esce dalla potenza di Dio, una virtù che vuole guarirti, sanarti, liberarti. Adesso, in questo istante, dal tuo problema, dalle tue difficoltà, da dove ti trovi, in qualsiasi problema tu abbia, piccolo, grande, qualsiasi, su un letto di malattia, noi conosciamo un Gesù che guarisce e ti libera dalla malattia, dalle depressioni, da tutto quello che ti sta dando a male nella tua vita. Sapete, c'è il bene e il male in questo mondo. E purtroppo, per colpa di qualcuno, noi sappiamo benissimo dei nostri antenati, di quello che è successo ancora nel protovangelo, nella Genesi, dove dice calpesterai il serpente con la testa, dice, sarà calpestata col piede, la testa del serpente. Era la profezia che Gesù era colui che vinceva sulla croce, il serpente che morde al calcagno, perché avevano disobbedito. Dio aveva dato la libertà, aveva detto di non toccare dell'albero e di non mangiare del frutto, del bene e del male, perché quando mangerete per certo morirete. E io vi dico la verità, fratelli e sorelle, noi abbiamo questo giardino da poter, diciamo, custodire, vegliare. E non dobbiamo tralasciare nelle nostre famiglie e far entrare il nemico nelle nostre case, con le sue astuzie, con le sue furberie, con le sue malignità, con tutto quello che sta distruggendo. Sapete quante chiese si possono distruggere per far entrare delle dottrine che non sono da Dio? Scusate se dico questa cosa, ma non è per far male a nessuno, ma dico, noi dobbiamo tenerci sulla parola di Dio. Perché se diciamo secondo me, secondo il fratello che ha detto, secondo la sorella, no, la tua parola dice così, Signore. Noi vogliamo essere confermati dalla tua santa parola, nessuno deve cambiare una virgola, una iota, nessuno, il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Fratelli e sorelle, non distruggiamo l'opera di Dio con i nostri pensieri, ma manteniamoci con la parola di Dio finché ancora possiamo ritenerci, ancora di poter camminare nella luce e togliere queste tenebre che ci sono. In tanti ci sono le tenebre, scusate se dico queste cose. Quanti hanno abbandonato il Signore perché non hanno compreso bene le cose di Dio? Mi hanno fatto male, sono entrato in una chiesa, c'è stato questo, quest'altro, tanti giudizi, pregiudizi invece di pregare. Giudichiamo, è facile giudicare gli altri, il nemico ci mette l'uno contro l'altro. Ci sono tanti casi, tante questioni da poter mettere davanti a Dio, ma non voglio parlarvi di queste cose, avete già compreso, avete già capito che il nemico mette divisione e noi vogliamo essere uniti. Sapete quante chiese ci sono nel mondo? La chiesa, la sposa di Cristo è una, è una unita affinché noi possiamo pregare tutti insieme il Signore e portare la vittoria per strappare le anime dal fuoco e per curare le nostre chiese, i nostri fratelli, le nostre sorelle. Hanno bisogno del tuo amore, fratello, sorella. Servo del Signore, servi del Signore, le nostre chiese, i nostri fratelli, le nostre sorelle hanno bisogno d'amore, hanno bisogno di quell'affetto che il Signore dice che ha sparso l'amore nei nostri cuori attraverso il suo Santo Spirito. Amatevi, l'ultimo comandamento è, in Giovanni 15 dice, amatevi gli uni gli altri, amiamoci fratelli, perdoniamoci, uniamoci, mettiamoci in preghiera, in ginocchio, mettiamoci lì. Ci sono dei fratelli che stanno patendo la fame, la sete, il freddo, il caldo, sono senza speranza. Tu sei la speranza, fratello, sorella, in Gesù, perché tu preghi, perché tu intercedi. Dice che il Signore farà scorrere fiumi nella steppa, nel deserto farà scorrere dei fiumi. Noi sappiamo che il popolo di Israele non fu mai abbandonato per 40 anni che vado nel deserto perché Dio era sempre con loro, li aveva ancora nutriti, li aveva dato da mangiare della manna che scendeva dal cielo, li aveva dissetati con dell'acqua che era scaturita dalla roccia e delle quaglie nel deserto perché si lamentavano sempre, cari fratelli, cari sorelle. Noi oggi abbiamo tutto, quello che ci manca, scusate se dico questa cosa, è mantenere quello che il Signore ha detto. Mettiamoci davanti a Dio. Non voglio giudicare nessuno, non sono qui per fare dei processi, ma sono qui per dirvi, fratelli e sorelle, mettiamoci insieme, manteniamoci in salute, in salute spirituale. La speranza è qualcosa di straordinario, ci tiene a poter rimanere attaccati al Signore perché sappiamo che la nostra speranza è che Gesù presto verrà e rapirà la sua chiesa. Perché se facciamo come Noè, che la sua famiglia costruì l'arca e gli altri non facevano niente, giudicavano Noè e magari lo prendevano anche in giro perché stava facendo questa grande imbarcazione, con la sua famiglia però andò avanti. Non fu rattristato, ma era sempre lì che pensava che Dio gli aveva parlato e per fede, uomo che ha creduto per fede. Fratelli, quanti uomini hanno creduto per fede? Anche ricevete la doppia benedizione, la doppia unzione. Fratelli, manteniamoci in vigore con le promesse di Dio. Il Signore è il pane che discende dal cielo, dà vita al mondo, è Lui che disseta il nostro cuore e la nostra anima. Prendiamoci forza, coraggio. Non frantumerà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante. Cari fratelli, care sorelle, se ci sono delle famiglie che sono state spezzate, che sono accadute tante cose, stanno aspettando che tu li possa andare e trovare, perché tu possa essere quel buon samaritano, come Gesù prese l'esempio del buon samaritano. O magari lui, quel uomo che scende, andò verso Gerico, che si imbatte nei briganti, lo ferirono, lo lasciarono a mezzo morto. Aveva speranza in quel sacerdote, in quelle vite, ma invece non era così, perché la nostra speranza nell'uomo sappiamo benissimo, ma quanto abbiamo speranza in Gesù? Quella persona che sembrava che non contava niente e quella che si ferma come il buon samaritano e raccoglie, ci cura, ci versa dell'olio, ci versa dell'aceto, del vino e ci guarisce e ci lenisce il dolore e si prende cura. Sapete, la cura è il simbolo di Gesù che ci prende, ma ha messo in noi questo valore di poter amare, aiutare i fratelli, le sorelle, ma non possiamo aiutare tutti. Come facciamo? Mettiamoci all'opera, fratelli. Le opere e la fede vanno insieme. Che Dio ci possa benedire, ricordatevi sempre il testo che dice, Isaia 42, verso 2, dice, non perdere la speranza, non frantumerà la canna rotta, non spegnerà il lucignolo fumante. Se si sta spegnendo qualcosa di te, della tua vita spirituale, cristiana, Dio vuole riaccendere, vuole dire che ti amo, non ti abbandona mai, io non ti lascerò, non ti abbandonerò mai, anche quando attraversarai il fuoco, le acque, i fiumi non ti sommergeranno, non sarai travolto. E anche se sarai nella grande prova, beh, Dio sarà lì con te, sarà anche Gesù nella prova con te, non ti abbandona mai. Vogliamo fare una preghiera insieme con il fratello Cataldo, insieme tutti quanti, vogliamo pregare per chi ci ascolta da casa? Una piccola preghiera insieme. Signore, ti vogliamo ringraziare, lodare e benedire il tuo nome. Grazie per l'opportunità che mi hai dato, Signore, di poter annunciare la tua parola. Grazie perché tu, Signore, non disprezzi nessuno, ma tu ami, tu aiuti, tu intercedi, tu prendi la mano del debole, tu difendi la vedova e l'orfano. Signore, tu ti prendi cura di quelle persone che hanno bisogno, di quelle famiglie che stanno soffrendo, Signore, nei carceri, ancora negli ospedali, ancora quelle famiglie nelle loro case dove i loro figli non ritornano a casa, dove c'è tanta sofferenza, dove quei mariti abbandonano le mogli, trascurano le famiglie. Signore, ti prego, prenditi cura di queste famiglie, metti in loro uno spirito ben saldo, risvegliali, Signore, ti prego, quelle chiese che hanno bisogno ancora di potenza, che tu possa scendere in tutta la tua chiesa e i tuoi servi. Grazie per il fratello Cataldo, per tutta la redazione di Parole di Vita, rimani con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, Signore, fino alla fine dell'età presente, affinché tu ritornerai, ti prego, benedici, ungi ancora i fratelli, Signore, che saranno in rete per tutti questi giorni, per le staffette di preghiera, per tutto ciò che tu, Signore, hai costituito attraverso questo canale, soprattutto per la tua parola che ha parlato i nostri cuori. Signore, ti prego, riaccendi in noi il sentimento di Cristo, nel nome potente di Gesù. Amen, alleluia. Grazie, Padre, nel nome di Cristo. Dio ti benedica, fratello Cataldo.